Conosci queste cinque invenzioni? Quante volte sbatti il mignolino e ti parte il bestemmino? Eh, a me un po' troppe. Per noi hanno creato le pantofole led, sono delle ciabatte create per non andare a sbattere contro le porte di notte. E' stato creato il tostapane con le pareti trasparenti, creato per controllare lo stato del pane durante la tostatura. E' stata creata la forchetta tagliapizza, una forchetta che fa anche il lavoro di coltello. Hanno inventato la spina elettrica universale, possiede un foro al centro per essere staccata con facilità e si illumina anche al buio. Che volete di più? Che ve faccia anche il caffè? Questa è fuori di testa. Hanno creato la porta che si trasforma in un tavolo da ping pong. Prenditi i miei c***o di soldi!